Torrese e Lanciano si sfidano con umori decisamente contrastanti e non solo per i valori in classifica ma anche per quanto avvenuto sulla parte tecnica rossonera che ha perso in una settimana il direttore sportivo Multined poi l'allenatore Gagliarducci e il secondo Ragni in attesa del nuovo tecnico un triunvirato formato da quadri tecnici e dirigenziari l'allenatore dei portieri di Toro, il fisioterapista Necchini e il dirigente accompagnatore Belfiore a dirigere le operazioni in campo ed eccolo qui il campo Pronti via e al terzo ottimo spunto di Iuseni che manda la sfera fuori di un soffio dicevamo inizio di marca rossonera che però scema con il tempo fino a quando la Torrese prende in mano il gioco al diciannovesimo Di Nicola taglia l'area con il destro ma l'occasione più ghiotta c'è la festa che a tu per tu con Elezai si fa stregare si fa vedere il lanciano al trentanovesimo Iuseni per Bocchio a lato e in pieno recupero al quarantasesimo Di Nicola carica di destro mira il set ma trova la grandeur di Elezai che vola sulla sfera primo tempo in archivio sullo 0 a 0 ripresa che apre così come si era chiuso il primo doppia occasione giallorossa prima il calcio franco di Di Lallo poi la deviazione d'angolo su Santi Rocco sbattono contro Elezai in formato davvero mondiale poi l'episodio che non ti aspetti al minuto 11 su una ripartenza frentana c'è il contatto fra Abate e Bocchio il direttore di gara inesorabile indica il dischetto lo stesso Bocchio dagli 11 metri di precisione chirurgica in sacca Abate piove sul bagnato fallo da ultimo uomo Dittini che al ventitresimo va su Bodo e giallorossi che rimangono in dieci nella rincorsa e così la reazione della Torrese è vehemente Cristofo rimanda in campo anche Gentile che ha subito l'occasione per il pare al ventitresimo quasi un rigore in movimento che manco a dirlo trova ancora Elezai e al ventisesimo è Sec che con un tiro da lunga gittata prova a cercare la porta finale arrembante il contropiede di Mariani che può rendere più pesante ma sarebbe stato immeritato il punteggio se non fosse stata per l'uscita di Abate che così limita il passivo grazie grazie grazie